L'esercito israeliano si è saldamente arroccato con tank e truppe a Khan Yunis, città chiave di Hamas nel sud della striscia, allargando l'offensiva. Al tempo stesso ha preso il controllo di altre due roccaforti della fazione islamica a Jabalia nel nord e a Shouyaia a destra di Gaza City, nel centro dell'enclave palestinese. Dalla fine delle pause della scorsa settimana i combattimenti si sono intensificati a sud mentre il segretario generale dell'ONU per gli affari umanitari Martin Griffiths ha lanciato l'allarme su una situazione diventata ormai apocalittica, dove, ha denunciato, i civili sono costretti a fare una scelta impossibile dopo l'altra in un territorio dove nessun luogo è sicuro e nessuno è al sicuro. Un inferno che riguarda anche gli ostaggi israeliani, che secondo il premier Benjamin Netanyahu sarà difficile riportare a casa. La strategia è quella di frammentare sempre di più la continuità territoriale di Hamas nella striscia isolando i miliziani, ma di questo ovviamente a farne le spese sono anche i civili. L'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, che ha denunciato la morte dall'inizio del conflitto e di 130 suoi dipendenti nella striscia, ha affermato che si prevede che più di un milione di sfollati palestinesi arriveranno a Rafah. Le condizioni necessarie per portare aiuti alla popolazione di Gaza non esistono. Se possibile, ha incalzato la coordinatrice umanitaria dell'ONU, Lynn Ashtings, sta per aprirsi uno scenario ancora più infernale, in cui le operazioni umanitarie potrebbero non essere in grado di rispondere.